Hanno i genitori Novax e così due minorenni toscani si sono rivolti all'Associazione Matrimonialisti della Toscana proprio per ricevere il vaccino anti-Covid, una vicenda che potrebbe terminare in tribunale. Noi siamo in un paese in cui una generazione, la generazione forse dei 50-60 anni, ha delle posizioni articolate sul discorso dei vaccini, e cioè legittimamente c'è chi ritiene che questi non servano, siano inutili o addirittura siano dannosi. E invece, e questi sono dei dati inconfutabili, tutte le ricerche sociologiche confermano che i giovani aderiscano in maniera quasi assoluta, quasi unanime, alla possibilità della vaccinazione vissuta come una possibilità di ritorno alla normalità. Un ragazzo in questi casi, l'ordinamento giuridico italiano, contrariamente ad altri ordinamenti più evoluti, non dà strumenti diretti di tutela al minore. Dunque, il minore dovrà necessariamente rivolgersi o alla procura minorile facendo una dichiarazione, mettendo a verbale le sue dichiarazioni, e il PM avviare un procedimento, oppure tramite il servizio sociale, e quindi ovviamente con il filtro di una valutazione del servizio sociale, avviare eventualmente un procedimento innanzi al tribunale dei minorenni, o nel caso di genitori in corso di separazione, il giudice della separazione. In tutti i casi non c'è una tutela diretta del minore, non c'è una strada diretta che lui può attivare, e soprattutto il minore non può scegliere da chi essere difeso, da chi far sostenere le sue ragioni in giudizio. Ed è per questa ragione che riteniamo di attivare subito con i genitori un percorso di riflessione e di mediazione, perché stiamo parlando comunque di minori prossimi alla maggior età, che possa far comprendere proprio a chi la pensa in una certa maniera quanto sia giusto e anche consentire di agire per un trattamento che riguarda il proprio corpo secondo le proprie convinzioni.